bastava dire a faraone che comprendiamo il fatto che lui e renzi essendo senza casa lui va in giro cercando un luogo dovrà la doccia quindi si è rappresentato in un accappatore davanti palazzo d'orlea ecco non questo non coinvolge la compagine che all'interno della minina del consiglio comunale perché avevano già da tempo tagliato i conti con italia viva e quindi è una compagine completamente diversa hanno detto poi loro stessi quindi credo che anzi credo anche in questo caso sono assolutamente certo che la crisi in questo senso o meglio le avvisaglie di crisi siano assolutamente rientrate